Ho visto il disco volante, ho parlato con un marziano, a me che è? Sì, sì, adesso c'è anche una traduzione sul canale Rete 1. No, 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 l'ho detto sì, ma c'ho anche il disco volante girato. Io ho proprio il negativo. Io facevo un film in Spagna, proprio con il mio amico Jack Palance, Tony Musante e Franco Nero, che si chiamava Il Mercenario, 1900, ma adesso non mi pare, 65-66. Un giorno facendo un primo piano a Jack Palance, dal basso verso l'altro, lo stava lì incavolato così, lo vedo dove fa, dice Dottor, ma quella cosa là dietro che è? Che è quella cosa là dietro? Vedo in realtà dietro la testa di Palance, visto che la testa c'era una campana, una cosa come una grande trottola rovesciata. È lì che ha detto non stare in campana, lo fa, sei un saperso. E allora dico, ma che è questa cosa? Dice, non lo so, dice Dottor, che è? Ma secondo me, dissi io con calma, deve essere un disco volante. Che era la prima cosa che ti è venuta in mente. La prima cosa, il direttore di produzione, col solido cinismo che distingui, direttore di produzione, fa, stiamo andando a perdere un tempo con un disco volante adesso. Ma come c'è un disco volante? Dico, non è che siamo mali. Dico, senti, 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 senti. E allora da un po' che è un disco volante.